Sono un centinaio i lavoratori dello stabilimento Carraro di Poggio Fiorito in provincia di Chieti che rischiano il posto di lavoro. L'azienda padovana, che nell'impianto abruzzese produce componenti meccanici di precisione per l'automotive, sta attraversando una crisi finanziaria che preoccupa sindacati e lavoratori. Il fatturato dello stabilimento, che nei periodi d'oro aveva superato i 40 milioni di euro e che mediamente si aggirava attorno ai 20, oggi è ridotto a poco più della metà, circa 11 milioni di euro, con la produzione al 40% della capacità. Scendere ulteriormente di volume vuol dire arrivare sotto al 40% della saturazione dello stabilimento e chiaramente siamo molto preoccupati per l'esistenza di questo stabilimento. Non ci spieghiamo perché siamo arrivati in questa situazione, perché è stato dato del lavoro fuori ad aziende che non sono nemmeno del gruppo, mentre questo sito man mano si sta smobilitando con l'intenzione chiara, secondo il nostro punto di vista, di voler arrivare alla chiusura dello stabilimento. Questa mattina c'è stata la prima azione di protesta con uno sciopero di otto ore indetto dalla FIOM CGL e dalla FIM CISL a cui ha aderito il 100% dei lavoratori. I sindacati, che da otto mesi chiedono risposte alla proprietà, adesso si rivolgeranno a regione Abruzzo affinché venga al più presto convocato un tavolo con il gruppo Carraro. Il 100% di adesione allo sciopero certifica ovviamente le nostre preoccupazioni di queste settimane. Ovviamente adesso chiederemo aiuto alle istituzioni perché l'azienda negli ultimi mesi è totalmente latitante. C'è una presenza fisica al tavolo di trattativo ma di fatto non ci danno nessun tipo di risposta. I lavoratori però restano preoccupati, sono in solidarietà da fine febbraio e raccontano hanno fatto il possibile per cercare di aiutare l'azienda ad uscire dalla crisi. Qual è l'ambiente che si respira all'interno? È pesante perché poi oltretutto noi da febbraio siamo con il contratto di solidarietà e quindi gli stipendi sono anche abbastanza bassi. Oltretutto noi per aiutare l'azienda a gennaio di quest'anno abbiamo fatto un incontro a Padova tra tutte le aziende del gruppo e abbiamo anche rinunciato al premio di risultato. Grazie.